Hai fatto re dei giochi nello Speed Duel e ti stai annoiando? Avete fatto re dei giochi anche in Rush Duel e vi state continuando ad annoiare? Avete fatto persino la fase 2 nella KC ragazzi e continuate ad annoiarvi perché non avete nulla? Nessuna paura ragazzi perché con il deck degli Aircraft questo non sarà il problema perché con il deck meme di oggi andremo a mostrare un deck dove potete andare tranquillamente nelle sale duelli e divertirvi e memare come sempre ma prima di iniziare vi chiedo come sempre un like sulla fiducia e simpatia mentre se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e aiutarci a raggiungere l'obiettivo dei 500 iscritti ma adesso andiamo subito ai replay e iniziamo subito contro Selina vediamo cosa andrà a giocare se non ricordo male era un teni o un luce lunare vediamo andando me è caduta qua con la Nina ragazzi il ciondolo scende e andiamo, unione elementare partiamo subito con il nostro link ovviamente è il nostro turno quindi siamo immuni comunque a tutti gli effetti dei mostri spirito teni ragazzi qui c'è poco da fare il teni non c'è partita contro il teni perché comunque tutti i suoi effetti verranno tutti vanificati guardate qui Baxia c'è che fammi prendere un mostro non può fare niente ma io attivo subito il carice del mondo via al cimitero spirito del teni esce una cosa divertente è che non esistono mostri ulteriormente con oltre i 3.500 di attacco che l'avversario può andare a mettere giù c'è una del teni attiva tutte le carte spirito del teni non può riprendere nulla in mano berserker del teni rimane lì beccape del teni mette la carta terreno prende 2.000 la risponsa attiva la magia distruggo ovviamente l'unica carta che posso distruggere grazie all'effetto comunque 3.500 di danni lo spirito del teni non si attiva non prendo nemmeno la distruzione l'avversario non sa bene cosa andare a fare cosa uscirse da questa partita andiamo attiviamo l'effetto 3.500 faccia l'avversario decide di mettere carta coperta noi riattiviamo l'effetto e ci portiamo a casa la vittoria ed ecco qui ragazzi che contro questo link il teni non ha completamente partita ma adesso andiamo in qualcosa di più divertente e sfizioso signori siamo contro Bones iniziamo noi quindi andiamo a posizionare l'abilità comunque è abbastanza forte ma secondo me qualcosa secondo me a mio parere potrebbero un poco modificarla una sistemata secondo me non sarebbe male qui continua a cadere il miciondolino andiamo a posizionare il nostro link pulito come se niente fosse l'avversario doppia carta coperta e andiamo a distruggerlo e attacchiamo faccia l'avversario ulteriore carta coperta e andiamo a distruggere anche la carta coperta tenendo il suo effetto ragazzi 3500 e faccia così indipendi e ci siamo portati a casa così la partita e andiamo qui contro i Shizu Istar altra partita altro duello siamo qui contro Dark Soul vediamo cosa l'avversario ci propone perché inizia lui questa volta quindi prevegenza unione elementale noi posizioniamo i tre mostri inizia l'avversario vediamo che cosa combina perché non ho idea vendita di giocattoli quindi se lui riuscisse a mettere il mostro sul campo la fusione riesce a distruggere due o tre mostri in realtà ha la vittoria in pugno quindi vediamo cosa riesce a fare noi ci auguriamo che non riesca a fare tutta la abilità ma se il video è qui comunque sicuramente non ci è riuscito allora riportiamo l'avversario è già di giocattoli attiva attiva ancora forse non non ha la fusione in mano e noi qualche importe iniziamo subito link andiamo distruggiamo attacchiamo diretto ok attacchiamo diretto aquilone e via primo andato di nuovo ricomincia l'avversario guffo fluffal prende la polimerizzazione mette giù polimerizzazione tigre tigre già non funziona più non può fare più nulla io evoco specialmente all'estradec il calice del mondo lui attacca bandisco prendo ottenere carta così a passatempo vado in questa maniera distruggo attacco diretto e non si può fare niente arriva l'avversario di nuovo fusione pelliccia spavento mette sto mostriciatto che un po' mi lascia titubante in realtà lupo peliccia spavento che e lì in realtà non può fare altro poi l'avversario comunque si arrende e siamo contro Axel Brody vediamo l'avversario cosa ci offre Fat Booty ok vabbè non ho capito ora allora non elementare partiamo di nuovo posizioniamo subito il mostro link e chiudiamo in questa maniera sperando che non ci faccia di danni diretti o 11 points tre carte coperte subito distruggiamo andiamo avanti con 3.500 l'avversario posiziona il tifone spaziale distrugge un mostro tocca a noi fine l'avversario si arrende e siamo contro di nuovo Bones ragazzi vediamo questo cosa ci porta chi sta ok vediamo l'avversario cosa porta fermezza non elementare 1,2,3 risistemiamo di nuovo subito link partendo aggressivi prossimo turno fine ok l'avversario carica la batteria della lua ok ragazzi questo devo dire questo replay lo adoro è stato veramente bellissimo manda mostri al cimitero continua a mandare mostri al cimitero attivo attacco diretto 3.500 ovviamente per difenderci non ho tantissima roba manda tutto al cimitero abbiamo ragazzi un bellissimo servitore del tesco da 7.000 di attacco e io lo adoro per dire la verità questo come altro deck meme io lo adoro lo trovo veramente bellissimo insomma ragazzi ecco qui attivo la carta magia tanto per non si dire ma ovviamente con 500 iphone ho poco da poter resistere e ovviamente diamo la vittoria all'avversario ma noi non siamo persone che si arrendono quindi noi di nuovo ritorniamo a rigiocare altro sfidante Tom lo ringrazio 28 carte non ha un extra deck ok questo mi sorprende molto inizia l'avversario ok va bene in questa maniera distruggiamo carte attacchiamo diretto fine di nuovo ragazzi Amazon è qui la botta del sedere che ho avuto è incredibile perché ho attivato subito il dissimulatore di effetto negandogli l'effetto infatti lui attacca e danni se riprende lui ragazzi un po' di culo su due link ci vuole sempre ebbene ragazzi questa è la versione che ho giocato ho messo un poco di carte magie del mondo cercando di comunque poter fare qualcosina in realtà comunque molto utile in realtà si rivela il carice del mondo e che possiamo evocarlo specialmente dal nostro deck quindi possiamo evocare carte come questa o questa di qui il resto comunque un po' una cozzaglia di carte tanto per potermi difendere qualora dovessi sopravvivere o comunque magari distrugge qualche trappola o roba in questa maniera insomma parliamo sempre di un deck molto divertente un deck da passatempo e detto questo spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video il video